Grazie per la linea Roba Sera, veniamo subito ai titoli. Continua la guerra dei pelati, nell'avanzione a Gistegno della Trocompa mai procato del barbiere un po' pelato ed è restato ottociatori alla maggioranza rotta a Stabanza, con o senza sanza. Ancora zuffazione alla reverenza degli apocassano al nisbolo berato, nel gioco della chiappa chiappa del cuccetta d'oro quiz con Schimberni tutti ignari arrivano i carabinari. Ma De Mita non replica nell'avanzione d'antalloro. Infatti Intini ha rabirato che Ottaviano del Turco e Super 4 e il tegresario del partito d'azione a Stantuffo Laicoziociato della Valpustella Fospartaid hanno detto «Ello so che ne so chi lo sa». Panico affantastico, l'Olafalana e la Befana. E infatti sono ancate le proteste, la manifestazione degli identi all'Antraccola all'Asio per la rimonia augurale dell'IRPEF, nelle fruste paga e la bilancia delle tangenti nella riunione di gabinetto per l'addorco delle buste al netto. E veniamo al Rosa. Valentin è figlio di Montblanc, a Champé-Élysée nell'argomentatore appunto tutti i francesi al gioco accolpito ai francesi. Per questo, ha ragionetato l'azufazione e tutto, avrei rotta sta banza. A voi le rimbi industrie. Grazie. 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 Grazie.